L'Asperger e l'ordine Questo è il banco da lavoro di uno che si considera un Asperger Ora dice, gli Asperger hanno un rapporto particolare con l'ordine no sono ordinati, no sono disordinati allora ogni Asperger è diverso da un altro prima di tutto come tutti gli esseri umani sono tutti diversi non esiste una categoria univoca Asperger sono delle caratteristiche che poi si vedono allora dice, sì, questo potrebbe essere Asperger o potrebbe non essere Asperger ora, una delle caratteristiche che può aiutarci a individuare un Asperger è la creatività la creatività è intesa come una vera e propria io parlo di me una vera e propria tempesta preda di idee al quale praticamente siamo continuamente sottoposti idee che chiaramente richiedono una successiva elaborazione quindi il nostro cervello è sempre sempre in preda a idee e ad elaborazioni di idee questo fa sì che possa succedere e ripeto, non è per forza che debba essere categorico perché il categorico in natura non esiste e allora si iniziano cioè magari si vuole portare iniziare l'idea la realizzazione dell'idea ma mentre si comincia a realizzare l'idea mentre la si realizza si cerca di realizzarla la si elabora in quello stesso momento il cervello viene continuamente distratto da altre idee e da ulteriori elaborazioni la testa nostra è così quindi veramente io penso proprio la parola tempesta bufera di idee è proprio quella che può più caratterizzare noi anche creativi perché se vogliamo anche un semplice creativo che per forza di cose non deve essere per forza un asperger e un asperger non può essere per forza di cose un creativo siamo sottoposti comunque sia a questo genere di funzionamento nel cervello ovviamente magari un neurotipico non è sottoposto a questo perché le idee non gli vengono così tante cioè le idee in noi sono frutto delle percezioni del mondo circostante quello che noi vediamo quotidianamente in ogni secondo della nostra vita intorno a noi è praticamente uno stimolo uno stimolo a continuare a fare qualcos'altro cioè uno stimolo ulteriore che si va ad aggiungere agli stimoli precedenti quindi voi vedete lo stimolo che arriva l'idea che nasce l'idea che vuoi poi deve arrivare a una realizzazione ma nella fase di realizzazione subentra un'altra particolarità la noia perché a quel punto diventa noia e la noia viene messa sotto da cioè l'idea viene soggiogata dalla noia o al contrario insomma praticamente questa situazione crea un'ulteriore confusione che è in fin dei conti un ordine all'interno della testa di Nasperger ma viene percepito come disordine fuori una maniacalità nell'ordine è più magari degli ossessivi però si può essere anche ossessivi all'interno diciamo della sfera Asperger perché il proprio ordine e il disordine di un altro e viceversa chiudo qui questa brevissima riflessione che faccio per un mio amico che stamattina mi ha detto no secondo me io non sono un Asperger perché io sono disordinatissimo no io lo riprendo di continuo perché nel suo laboratorio che è quello suo professionale non il giocattolo per me questo laboratorio è un giocattolo nel suo caso è l'officina dove lavora quindi ovvio che la cosa è diversa però noi ci dobbiamo far caso che più le persone sono creative più sono circondate nella loro vita da disordine che è il loro ordine però attenzione è il loro ordine il nostro ordine ognuno ha il suo ordine perché spesso e volentieri la parola ordine gliene imposta c'è qualcun altro che impone l'ordine al soggetto destinatario e qui scappa fuori un'altra caratteristica che l'imposizione è una nota allergica per l'asperger chiudo qua ho usato la parola asperger vabbè toglietela di mezzo chiamatela come vi pare io ho utilizzato un termine che è molto più breve molto più noto anche se adesso i neuroscienziati non usano più questo termine ma noi siamo gente comune noi siamo umili e quindi utilizziamo parole più semplici più immediate magari sbagliate non propriamente precise però dobbiamo mandare un messaggio che venga raccolto e poi sta a voi elaborarlo ciao a tutti